Ricordiamo l'anno scorso felice con una Pasqua per questa medaglia mondiale che la merita. Oggi può fare meglio, è il giorno della sua vita. Linfo al Cristi e Piazza Cessu Pavoni, seconda e terza corsia, attenzione, partenza valida, vuole la partenza di Piazza Cessu, chiede Piazza Cessu, chiede Piazza Cessu, è secondo per Linfo al Cristi, 6,56 per Cristi, a grande gara di Piazza Cessu.